di usare la musica proprio per stare bene, per stare allegri, perché poi questo è il significato del nome della band e se poi durante un concerto ci scappa anche o durante le prove un bicchiere di vino quell'allegria probabilmente risulta essere anche più sana e più godereccia allora andiamo a presentarveli perché partiamo dalla sezione ritmica quindi al basso, Gabriele Floris alla batteria Alex Pichau alla chitarra il mitico Franco Montalbano e alla voce tastiere è lui, il fondatore degli Allirgus Silver musica, andiamo ragazzi 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 musica, e Grazie a tutti 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 Bene, 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 uso Bene, bene, uso Grazie a tutti 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 Grazie a tutti